DG Photo Art It's Media It's Art E allora siamo qui al Teatro Zonavomero per quest'anteprima dello spettacolo Siamo tutti felice con Salvatore Gisonna Fabio Balsamo Ciro Esposito Noi siamo, non si vede, ma noi siamo tre fratelli in realtà Io sono Felice Aria, lui è Gigi Aria e qui c'è Enzo Aria Viviamo sotto lo stesso tetto, Gigi Aria chi è? È un agente immobiliare, una persona estremamente convinta, un saccente Insomma che rivede un po' a suo modo i proverbi Quindi secondo una logica del tutto personale prova a dire la sua E fa un po' a patto con chi vince come si suol dire Quindi mi schiero talvolta con uno talvolta con l'altro Sono un po' quello più fragile ma anche quello che ostenta più sicurezza Invece l'artista dei tre? Sì, Enzo Aria, o meglio Enzo Eir Il più giovane dei tre si può dire Perché può sapere pure insomma Ambisce a diventare un cantante affermato nell'ambiente neomelodico E quindi fa assorbire le sue creazioni ai due fratelli Io invece sono Felice Aria, sono il maggiore dei tre E non si vede perché sembro un giovanotto Riccino a tutti e due Ma sono il carnefice, sono il burbero, schivo, tirchio Carnefice che loro subiscono le miangherie Ma allo stesso tempo me ne fanno di tutti i colori Poi a un certo punto della storia succede un qualcosa nella casa Che va a turbare questa apparente tranquillità E quindi ognuno di noi rivede le proprie posizioni Poi per saperne di più dovete venire a vedere lo spettacolo Perché che cono Assolutamente sì, insomma Per approfondire il tutto Capire come si svolge la storia Ma soprattutto le caratterizzazioni fino a che punto vanno Bisogna insomma venirla a vedere E poi ci dite voi insomma Abbiamo detto che lui è brutto e tirchio È pure antipatico, l'abbiamo detto Abbiamo detto che lui non sa cantare Io sono l'unico, il primo dopo tanti anni di mestiere E di lavoro teatrale Che ho fatto cantare su un palco Ciro Esposito Insomma solo per questo io venirei a vedere lo spettacolo Vi aspettiamo Ciao 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 Grazie a tutti.